Un paio di sere prima, due casoni per il ricovero dell'attrezzatura da pesca avevano preso fuoco a Sottomarina, al litorale veneziano, completamente distrutti. Martedì, stessa sorte è toccata ad una baracca per l'attrezzatura agricola ad Asseggiano, nell'area della città metropolitana di Venezia. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, giunti da mestre con due automezzi antincendio che hanno avuto ragione del rogo esteso a tutta la struttura, evitando che le fiamme si propagassero ad una vicina abitazione. Danneggiati dal calore anche alcuni alberi. Per le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo, c'è voluta oltre un'ora e mezza di lavoro. Ancora una volta la prontezza e la perizia degli operatori ha scongiurato che un episodio del genere potesse avere conseguenze molto più devastanti di quelle effettivamente procurate.